Antichi giochi, colazioni letterarie e cucina naturale. Villa dei Vescovi, il monumento del Fai che sovrasse le colline di Torreglia sui Colli Euganei, apre al pubblico con una serie di eventi che animeranno il parco e le sale cinquecentesche della villa che fu dimora dei Vescovi Padovani. Ogni prima domenica del mese, fino a novembre, sarà dedicata ai bambini e alla riscoperta dei giochi perduti, mentre l'ultima domenica del mese è dedicata alla lettura. Con un format molto nuovo, molto particolare, che abbiamo chiamato Colazioni d'autore, proprio dal titolo del primo libro che presenteremo di Petunia Hollister. Ci sarà una specie di branch campestre con la presentazione di questi libri direttamente dagli autori stessi. A breve inizierà anche il progetto di valorizzazione del parco, reinterpretando in chiave contemporanea il tema classico dello spazio giardino umanistico, con un'attenzione particolare al vigneto storico del parco. Cercheremo di renderlo anche lì un po' più rinascimentale, un po' più naturale. Oggi abbiamo 15.000 viti che sono gestite in maniera non naturale, non biologica, e rispecchiano quella che è l'agricoltura di oggi. Invece noi vorremmo tornare un po' indietro e recuperare un po' quel vigneto rinascimentale, che era molto più mosso, che aveva questa bellissima immagine della vite maritata, della vite che si sposa con un albero da frutto. E questi alberi di frutto che entrano dentro il vigneto e lo muovono e ci lasciano lo spazio per mettere del prato, per mettere degli uccelli, per mettere degli insetti, dove tutto questo nuovo microcosmo, invece che depaperare la terra, l'arricchisce. E mentre arricchisce la terra, arricchisce anche noi. Grazie.